E allora buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti, iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti che seguiamo e commentiamo anche l'Inter, devastate di like e domani ore 21 save the date perché ci sarà una devastante live in solitaria con il sottoscritto, quindi attivate il campanace e nell'attesa guardatevi, studiate i video fatti, in particolare quello su Fiorentina Bologna di oggi e il commento al derby, andatelo a devastare anche quello di like e poi ci risentiremo domani sera Allora Inter Frosinone, partita che va a consegnarci la sosta, partita di chiusura della giornata e mi viene da dire dopo il derby che ci siamo assorbiti alle 18, insomma non di eccelsa qualità per usare un eufemismo, finalmente calcio, hashtag finalmente calcio perché specialmente il primo tempo ma anche per buoni brani del secondo fino poi al finale, gli ultimi 10-15 minuti che si sono un po' trascinati però è stata una gran partita e permettetemi è stato anche un gran Frosinone il primo tempo, squadra sbarazzina, squadra di calcio, squadra di concetti di calcio di gioventù, di qualità, io amo il Frosinone il Frosinone è veramente una squadra che mi emoziona poi c'è questo Mattia Sule, Sule Malvano che è acquisto se avessimo preso lui dalla Juventus al posto di Mandragora mi viene da dire buttalo via, buttalo via però tanti bei giovani e soprattutto mentalità sbarazzina cultura calcistica importante sei sotto a San Siro, butti dentro, profili offensivi 4-2-4, squadra orgogliosa è anche una bella partita al primo tempo perché erano veramente due squadre che si rispettavano che avevano la giusta contezza, il giusto rispetto tra i due l'Inter che trattava il Frosinone anche come una grande squadra era veramente una contesa cavalleresca fatta di contenuti che mi è piaciuta moltissimo e che si è stappata, poi è andata a stapparsi con quel gol capolavoro da centrocampo perché a livello tattico, anche tecnico era una partita veramente combattuta poi è emerso il leverage il leverage tecnico dell'Inter che penso io, ecco arrivati a questo punto possiamo dire o no che l'Inter ha una squadra forte voglio dire, basta che vediate i cambi dalla panchina quando i giocatori del Frosinone poveretti erano abbastanza stanchi spompati per la partita fatta l'Inter si permetteva di sciorinare in campo gente del calibro di Carlos Augusto gente del calibro di Frattesi cioè insomma l'Inter ha una panchina anche ha una varietà che è quello un po' che si diceva da quest'estate che non andava e non va sottovalutata per non dire che ha una corazzata per quello che è con i suoi limiti è per carità ripeto sempre in attacco si poteva fare meglio a livello di centravanti è una squadra finalista di Champions poteva fare di più però in tanti reparti è una squadra che ha in tanti reparti è una squadra che ha due squadre è una squadra che ha qualità e oggi l'ho vista scendere in campo anche con un piglio giusto piglio rispettoso non come altre squadre che interpretano la partita come all'andare a rompere i coglioni il più possibile all'arbitro squadra cavalleresca squadra giusta squadra con anche il giusto mindset che non ha sottovalutato l'avversario senza per questo rinunciare a giocare a calcio facendo contropiede o perdite di tempo che ha colpito nei momenti giusti anche con un bel gol però è venuta fuori una bella è venuta fuori una partita di calcio tra due squadre comunque l'Inter è una squadra muta forma che sa fare entrambe le fasi che sa sia difendersi per poi ripartire ma sa anche tenere palla e orchestrare manovre di possesso un frosinone garibaldino con dei bei giovani ma idomo ok che ha veramente delle individualità interessanti ed un gioco che fa da collante da lievito per tanti di questi basta vedere su lei che tipo di giocatore è diventato ma anche tanti altri quindi è una bella realtà l'Inter per me è meritatamente al primo posto per forza per continuità anche per il fatto che comunque sto vedendo anche a livello mentale una squadra che dovrà mantenere sicuramente la concentrazione anche nelle prossime partite e qui vengo un po' al core al core di quello che vi voglio dire cioè andiamo alla sosta con sotto mano una classifica che ci dice che il Napoli sta faticando un Napoli che l'anno scorso era campione d'Italia ma che probabilmente dopo due mesi si ritroverà a cambiare già allenatore un Napoli che ad oggi deve più guardarsi da raggiungere il quarto posto in ordine primario che non ad aver sogni di gloria per lo scudetto c'è una classifica che ci consegna un Milan un Melan un milaniere che ha tante difficoltà ha tanti infortuni ha tanti alti e bassi ha tante contraddizioni tutti i temi ovviamente di cui parleremo anche domani e ci consegna un Inter che inizia ad avere anche per il momento in cui siamo perché siamo al 12 novembre che quindi vale relativamente però ti dà anche una fotografia diciamo che l'Inter rispetto almeno a queste due squadre qua che non è che sono comunque due squadre che dici sono di sei categorie superiori a Napoli e Milan però inizia ad avere delle distanze indicative ecco usiamo questo termine delle distanze indicative resta la Juventus che a livello di punti sta facendo un campionato in cui per me attualmente occupa una posizione che è anche al di sopra di quello che è il suo valore sulla carta perché Milan e Napoli avrebbero rose superiori anche alla stessa Juventus ma per vari motivi non riescono a conclamare questa superiorità ecco al ritorno l'Inter avrà non voglio definirlo un match point però l'Inter ha un'occasione per dare un segnale forte ha un'occasione per dare un segnale forte contro la Juventus che sicuramente è una squadra che non starà a guardare che vorrà giocarsi le sue carte che vorrà giocare con compattezza che vorrà metterla anche sotto l'aspetto della grinta della tigna però l'Inter anche per conformazione di squadra per le risorse che ha ripeto dalla panchina e non solo perché poi non è che i titolari facciano schifo l'Inter si presenta giustamente per me da favorita non solo per questioni di classifica a questo Big Mac che ci sarà con la Juventus l'Inter ha già una prima idea di match point mettiamolo così l'Inter ha già una prima idea di match point alla ripresa perché vincere vorrebbe dire continuare a tenere almeno alla stessa distanza di oggi Milano e Napoli e significerebbe poi staccare la Juventus più di quanto tu non sia riuscito a fare finora e quindi sarebbe un bel segnale sarebbe un bel segnale sarà una partita da vedere soprattutto questo per vedere se l'Inter riuscirà a fare già un piccolo strappo che secondo me visti i problemi delle altre squadre lo puoi anche contemplare perché se si guardano le rose io sono d'accordo che non è che ci siano distanze siderali sulla carta tra Napoli e Inter tra Milan e Inter però ci aggiungi il discorso degli allenatori ci aggiungi il discorso infortuni ci aggiungi ruoli scoperti ci aggiungi l'esperienza al contrario ci metti l'esperienza dell'Inter il fatto che comunque l'anno scorso è comunque una squadra che è andata in finale di Champions a tratto delle energie il mercato che ha fatto la panchina che ha certi valori che sono tutte cose che quest'estate invitavo a tener conto per poi formulare un'idea di rendita secondo me l'Inter ha un match poi bisogna vedere se ci arriverà bene a livello ovviamente di infortuni di giocatori presenti di mentalità di mentalità ecco quello sarà contro la Juve l'aspetto molto importante perché la Juve da questo punto di vista qui contro l'Inter è sempre brava a caricare le partite sempre brava a viverla quasi come un'occasione di riscatto di vendetta morale così mentre l'Inter a volte entra con uno spirito un po' più bonario un po' più superficiale invece l'Inter deve essere conscia della propria forza e dire non vogliamo sentire ciofeche se non il manifestare quella che è la nostra superiorità con determinazione cattiveria concentrazione un po' come fu diciamo contro il Milan nel derby detto questo ripeto oggi ho visto un Inter che ha fatto il suo era una gara tra l'altro che poteva riservare anche voglio dire delle sorprese però poteva anche far pensare perché il Frosinone per come gioca veniva qui a San Siro a giocare senza niente da perdere con una classifica tranquilla dopo aver vinto un match importante con l'Empoli non aveva niente da perdere un gioco anche sbarazzino che in queste condizioni può mettere in difficoltà io ho visto un Inter che questo l'ha compreso ho visto un Inter che è entrata in campo con l'occhio giusto non sottovalutando i possibili pericoli provenienti da questo mood col quale il Frosinone veniva a San Siro ma ho visto un Inter che è stata brava a capire i momenti a aspettarli con molta esperienza con molta esperienza quasi paterna oserei dire nei confronti di questi tanti giovani di un pur ottimo interessante e apprezzabile Frosinone che è veramente tra le squadre che preferisco veder giocare sembra Fiorentino anche per il fatto che la tifo io ma Frosinone anzi ripeto è che Di Francesco va un po' valutato dal punto di vista della continuità della grinta della gara ma come gioco sarebbe come gioco se uno guarda il gioco sarebbe un perfetto ipotetico sostituto di italiano se guardo solo il gioco ditemi cosa ne pensate un caro saluto e devastate i like e guardatevi i video fatti e guardatevi i video